Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova video. Io sono MarcoTV e oggi giochiamo a Crash Rulia. Iscrivetevi e io ricambierò. Volevo scrivere nei commenti, iscritto e ricambio. Però aspetta, vediamo un attimo sui contatti di iscritti e rimaniamo per un po' lì. Andiamo un po' allora. Allora, adesso vengo un attimo da voi e vi iscriverò nel vostro canale. Allora, vediamo un attimo. Allora. 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 Allora.